Nelle puntate precedenti Ciao Ehi, solo il casco, bello Ah, scusami, non avevo preso le munizioni, raga C'è un Type 100 che mi sa, ragazzi Cos'è il Deustel, c'è? Ma i miei compagni cosa stanno facendo? Moschina, ciao! Ciao, bellissima! Continuiamo a provare la cassa, ragazzi, che mi serve Ma, scusa, ma l'arma? Complimenti Questi coglioni sono già scappati, ragazzi Ma ve ne rendete conto? Brutti buffo Uh, via! Che stanno raccogliendo tutto, però, ragazzi Oh! Ma ci fanno tutto l'oro, grandi! Vai, boom, bitch! Chi ha? Ma dove cazzo sono andati quei due? Cioè, ragazzi, non ci credo Questi qua ci stanno fissi abbandonando Hanno rotto le palle, però Ciò si giocano proprio in solitaria Ma che senso ha giocano in solitaria se vanno in pubblico, allora? Andiamo Che bellino che sei, zio! Avete preso i vari nuclei? No, neanche i nuclei avete preso Ce l'ho prende io per forza i nuclei Danno aromamentato, questo ci serve Ma, che cazzo? Ma più scomoda la cosa per farsi... Per prendere il coso Per prendere il perk Andiamo Oh, yeah! Ciao, stronzo! Uno è preso, via! Ho preso una di quelle cose Chiudi Ma cosa vuoi tu? Brutto buffo Oh, siamo in vena di confidenze Parliamo dei nostri scheletri nell'armadio? Come volete? Chi comincia per primo? No, me la prendo Allora? Ecco come immaginavo Finito Finito tutto, ragazzi Finito tutto Via, via! Cosa c'è quel tipo? Cosa c'è? Cosa è che sta eliminando così gli zombie? Ma stiamo scherzando? Vai così! Via! Andiamo? Ah, ok, vabbè C'è quella cazzo di cosa Via, andiamo Su, 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 su Non me la fa prendere Quindi deve essere completa Sicuramente non è completa, ragazzi Ciao zio Ciao zio Oh, finito finalmente L'hai fatta? Grande zio Fammela prendere Eh, cosa addirittura così tanto? Oh yeah Vieni brutto Eh? È questa? Oh la matouse Via, 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 via Boom, bitch Cosa devo fare ragazzi? Mettere il nucleo, è vero? Ah dai, il nucleo i ragazzi li trovate Soprattutto sapete dove? Nel All'interno dei corridoi Quelli con le carrucole Dovete andare in giro I carrucole Sì, con i binari Con il trenino piccolino Volevo andare lì dentro E prendere ognuno di questi piccoli Allora, siccome Dovete fare i vari percorsi Infatti ve lo consiglio Fatevi i vari giri Tipo questo Chiamatelo Se ve lo fa chiamare Fatto ancora un po' male Non ve lo fa chiamare Ecco Trasporto non disponibile Cos'è quella cosa? Ok La velocità durata degli scatti è aumentata Questa mi interessa Pam Bursiatura alla mano Leggera Via Ora mi fa? Posso chiamare? Oh, chiamiamo Via Cambiamo Cosa qua? Via Che bello Sì, le field Le field Proprio utile per Ciao zio Proprio utile per Ciao zio Vieni Vieni zio No, ragazzi Questi qua stanno trovando tutto Questi qua stanno trovando tutto Grandissimi No, ragazzi Ma che cazzo ha lanciato? Cioè questi qua Stanno già Cosa devono fare tutto Stanno facendo tutto Ragazzi Non c'è niente da dire Troppo bravo Complimenti Vi faccio i miei complimenti Perché loro sanno fare Molto più roba di me Almeno quello Le lo riconosco Vai tu Attaccala tu Vado Attacco Via Boom Bitch Finito Ok Può servire Che cazzo è sta cosa? Ci posso attaccare la testa umana Ragazzi Tra un po' L'attacchiamo Dobbiamo aspettare i nostri compagni Cosa mi manca a me? Qui si stanno completando tutto Ragazzi comunque Adesso ho proprio il pack a punch E poi andiamo Sicuramente dentro il pack a punch È il mostro Respiri ancora Brutto Oh 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 Chi ti ha dato il permesso di toccarmi? Eh? Brutto buffo Via Andiamo Su 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 Vieni zio Ciao Io vado Devo fare questa cazzo di cosa Devo prendere il pack a punch Dai ciao Via 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 Carica Cos'era? No era lì Cazzo Ma porco 2 Non l'ho preso No non l'ho preso Che velocissimo Non so se c'è da prenderlo Cavolo Ragazzi Via No 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 Me l'avete fregato Uh ciao Stronzo Cosa? Brutta merda schifosa Com'hai fatta a beccarmi? Coglione Muori Cassa vai Namo Dai un'arma decente Un'arma decente Un'arma decente Un'arma decente Mi fa zammolla Vai Oh Vai zio Anche ho bisogno Di un'arma Anche io Dai ho brutto buffo Me ne fai aprire una Ma se ci muori Poi sono cazzi tuoi Brutto buffo Oh Ah ce l'hai proprio con me Ce l'hai No raga Ce l'hai proprio con me Sta merda No raga È impossibile È impossibile Sta gente Merda Sì ma dove stai andando Di qua Va va Perché sei finito Ah scomparso Ho saputo che è stata Intercettata Una battuglia Di soldati americani Ci sono stati Pochi superstiti Americani Come al solito Arrivateva D'arrivo D'arrivo Oh perché Ah ok Oh No raga Ciao Eh le munizioni Ah ecco Me le date Ma cos'è Ragazzi Ma che cazzo Sta succedendo A cagare Via No raga Ma che cazzo Sta succedendo Via Ma perché Non mi fate Spostare Dio No raga Buona È stato un piacere È stato un piacere Ciao Buona È impossibile Raga Cosa Cosa abbiamo fatto Cosa abbiamo fatto Ciao 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 ragazzi Ma sono morto Ormai Per zio Corre È finita Tutti a terra Tutti a terra È finita qui Mi sa Ragazzi È finita qui Addio Addio Ragazzi Non ci siamo Mi dispiace Ho fatto un botto Di punti Sono stato Quello che ha fatto Più punti Più eccisioni Però cavolo Il problema Il problema Più grande È che questi qua Hanno voluto Anticipare Un po' Hanno fatto Nenche più Di decisioni Di tutti Però va a fanculo Comunque sia ragazzi Del fatto è che Hanno voluto Anticipare Nel mettere La testa Al muro A quella porta Mi si è E' stato E' stato In automatico Tutto Ed è stato Un problema Ovviamente Quando si Setteva Tutto Buonanotte È finita Comunque sia ragazzi Spero che il video vi sia piaciuto Purtroppo Ho provato a farvi vedere Un po' tutto Però anche loro Raccoglievano Le parti Delle Ester egg Avete visto Che c'è da montare La testa Nella porta Con la porta Segreta Che bisogna Aprire Bisogna Cicare Che c'è quell'arma Con Con la sorta Di Lancia 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 E poi ovviamente Le armi Che hanno trovato Subito Allora Quelle armi Le classiche Di ogni Call of Duty Di ogni Nazi Zombie Di ogni Nazi Zombie Di ogni Zombie Che c'è In ogni Call of Duty Quindi ragazzi Spero che il video vi sia piaciuto Come al solito Vi invito a iscrivervi Commentare Mettere Mi piace Se ovviamente L'avete apprezzato Noi ci rivediamo Probabilmente Con un altro video Sul DLC One Di Multiplayer E niente Bella